e indistinti e non ordinari eccetera e quindi la vista di un cielo variamente sparso di nuvoletti è forse più piacevole di un cielo abbatto puro infatti ponetevi supino in modo che voi non vediate se non il cielo separato dalla terra voi proverete una sensazione molto meno piacevole che considerando una campagna o considerando il cielo nella sua corrispondenza e relazione con la terra grazie grazie